E' cominciata la settimana della consapevolezza in casa del Fessa Avellino. Dopo la sconfitta, brutta ma soprattutto difficile da digerire con Cassino, la squadra, guidata da coach Andrea Crosserol, ha messo nel milino la prossima gara. Domenica pomeriggio, al Pala del Mauro, arriva Montecatini. Una gara non semplice perché i toscani sono una squadra di energia, aggressività, a cui piace correre in campo aperto. A Cassino si è assistito alla peggiore prestazione stagionale, sia per l'esito del match, sia per una prestazione scialba, inconcludente, in cui i progressi fatti nel recente passato sono stati cancellati. E' chiaro che gli impegni ravvicinati pesano, ma non per questo devono rappresentare un alibi. Fatta eccezione per un primo quarto, giocato con attenzione il resto della partita, i biancoverdi non hanno mai trovato il filo del gioco. Il parziale di 23-8, di metà secondo quarto, il manifesto della fragilità di una squadra troppo legata alle individualità. Quando si spegne l'interruttore del talento, emergono le difficoltà. Con la sconfitta di domenica, Avelino è nel gruppone delle terze in classifica. In vetta ci sono la Caffè Toscano Piero Livorno e la Fabbo Eros Montecatini. Sei vittorie e due sconfitte. Subito dietro ci sono sei squadre, tra queste c'è la Delfes, con Logiman, Pallacanesso e Crema, prima delle terze in virtù della gara in meno. La gara di domenica rappresenta uno snodo cruciale per la Delfes. Da qui l'appello della società guidata dal presidente Gennaro Canonico e Tifosi. Vogliamo vedere il palazzetto, la nostra casa, trasformarsi in una fortezza inespugnabile, ma per farlo abbiamo bisogno di voi, così da aiutarci a superare le avversità ed a vincere per rendere entusiasmante il cammino di questo torneo di Serie B nazionale. Avelino, dunque, ora è chiamata alla svolta. Grazie a tutti.